L'oppe dice che dobbiamo farlo entro un'ora. Ha un picco di fertilità. Ho mangiato troppo, non so se ci riesco. Vuoi sapere dove andrò più tardi? Mariella! Vuoi sapere una cosa su di te? È come se a volte te ne andassi. Ma sta succedendo qualcosa? Se succede qualcosa... È quello che ho detto. Non sta succedendo niente. Te lo posso assicurare.